Cos'è lo Startup Safari? Gli Startup Safari sono tour guidati tra le eccellenze innovative presenti a SMAO, come Startup, come Incubatori e Big Player, dove potrai scoprire le innovazioni più interessanti dedicate al tuo settore. Com'è strutturato? Sono dei tour all'incirca di una quarantina di minuti, dove potrai scegliere tu il percorso più attinente al tuo settore, più interessante per il tuo settore, se no possiamo personalizzartelo noi. Startup Safari, una mappa, una guida e tante scoperte.